Decorazione, ovviamente. Non sto contro la decorazione, ma mi piace molto la decorazione. Sono sul parte decorativo. Sto dicendo che a volte bisogna più interpretazione. Non puoi essere così letteralmente. A volte il tuo lavoro è molto letteralmente. Non lo pensi? Penso che il lavoro ha una poesia dentro. Tu sei un poeta, non sto dicendo così. Non possiamo fare nuove cose, ma possiamo fare nuove combinazioni. Questo è quello che credo che facciamo. In molti decorazioni che facciamo, ci sono un'interessante e significante storie. Cioè, abbiamo messo le pote di Tegelard. Abbiamo messo il figlio morto di Le Corbusier, che ha scritto in un poema d'anglais. Abbiamo messo l'anglais. Abbiamo messo l'anglais. Abbiamo messo l'anglais. Abbiamo messo il pamphletto di Adolf Loos, dove parlano di ornamenti e crime. Il pamphletto di questa lettura di 1913 è ora una decorazione di mio pote. Questo è quello che facciamo. Molte delle decorazioni che facciamo sono un mix di due. Mi piace vedere che il tempo e le culture sono mixi. E che vediamo che possiamo condividere l'anglais. E vediamo che, insieme, possiamo essere ancora più bellissimi. Ci sono mille storie nelle decorazioni che facciamo. È una parte del design. Non è qualcosa che abbiamo collato sulle cose. Quando vedete il lavoro di persone come Heimer Yon, Studio Yon, ti senti responsabile? Dice la verità, la verità. Non, non mi sento responsabile. Se voglio essere un leader, devo accettare di essere seguito. Certo. Non mi credo che non ci succederebbe. Ma dovrebbe accettare. Io non ho creato nessuno di questi due. E loro sono responsabili. Dice. 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 Ron atajuato sono indignatamente. Dice, sei tu da invariare. Così non c'era un moseidadio. Inna lei era anche Hugeburne. Ed hoyinato dopo questa parte. No, no, narciate. Ni, ne, di. vorrei chiederti di chiederti di Marcelli o di Moe, perché allora è molto difficile di tracere una linea che fa una distinzione, certo? Non è così, c'è un buon e un buon design, e i buoni potrebbero seguire, non le persone come Hyman, Hyon e Job, sono due buoni designatori e se lo seguono, è perché abbiamo un passato, un passato simile, un passato simile, un passato simile, perché abbiamo una parte dei nostri obiettivi che è la stessa, non è che mi seguino o che io seguo, siamo spiriti kindredi, come tu sei in Sodaway, e ci sono persone che non sono spiriti kindredi. Marcelli, siamo del stesso tempo, quindi ricordiamo quando abbiamo iniziato a lavorare, tutto era così minimale, tutto era wide, plain, straight, correnti, e ora è solo il creativo, cosa sta succedendo? No, ma abbiamo scoperto, non tutti noi, ma il nostro tempo, abbiamo scoperto che il design non è riguardo alla funzionalità, perché la funzionalità è un fondamentale importante, ma non è nulla più che un fondamentale. Se stai construire una casa, hai bisogno di un fondamentale, ma non vivi nel frontale. Non puoi fare una casa senza un fondamentale, ma non vivi nel frontale, ma non vivi nel solo se stessi a fare un castello, un castello, un castello, un castello, un castello, ma non puoi fare un fondamentale completamente, ma la funzionalità è l'altro, ma la funzionalità è la due dogma che sono stati completamente overvaluati, ma per sicuramente una è la funzionalità. Abbiamo parlato di funzionalità, ma perché non pensi che le persone non piacciono molto in questo modo, perché siamo ingegneri e invece poeti. Ora, in ultimi 50 anni, potete vedere che il design è completamente cambiato, perché il messaggio che ci stiamo dicendo al nostro audience è diventato più interessato. È questo quello che facciamo? Non è che facciamo la stessa storia, ti facciamo la storia, Goppe facciamo la storia, e questo è quello che facciamo. Marcello, sei un ragazzo, sei un ragazzo, ti amo, e vorrei finire questa intervista dicendo che Marcello è un padre fantastico e tutti i figli di Marcello, a parte della sua donna, sono chiamati Gioi. I figli di Marcello sono chiamati Gioi. Ciao Marcello. Ciao. 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 E' il prodotto survived. Ahhh! Ciao!